Buon pomeriggio e bentornati in questa prima edizione del Tg6. Oggi nella nostra regione, in varie città abruzzesi, hanno manifestato studenti e insegnanti per chiedere la riapertura delle scuole in sicurezza, facendo assunzioni e stanziando fondi per l'edilizia scolastica. Nella giornata odierna, dunque, stop alla DAD, il servizio di Paolo Renzetti. Di Sante, quali sono i motivi di questa manifestazione che si svolge, tra l'altro, in diverse piazze italiane? Dopo un anno dall'emergenza sanitaria, nessun governo e nessuna regione ha fatto quello che bisognava fare per la scuola, ovvero ridurre il numero degli alunni per classe, avviare un piano straordinario di assunzione, stabilizzando i precari e tutto il personale necessario per la scuola e ovviamente fare un grande investimento per gli spazi e per l'edilizia scolastica. Se continua così, anche il prossimo anno avremo, come dire, la DAD, perché il distanziamento sociale, la sicurezza a scuola si fa riducendo il personale e riducendo il numero degli alunni per classe, aumentando il personale scolastico e con un forte investimento sull'edilizia scolastica. I soldi ci sono, quelli della fiscalità generale, bisogna investire il 5% del PIL sulla scuola e ci sono i fondi del recovery plan. Che cosa chiediamo? Innanzitutto che questi investimenti che sono previsti per questo recovery fund vengano spesi in modo realmente per la scuola e cioè innanzitutto è assolutamente necessario ridurre il numero degli alunni per classe a 15 e a massimo a 20 nel caso di un alunno diversamente abile. Questo naturalmente comporta per forza l'assunzione massiccia di insegnanti, di precari che da tanti anni aspettano anche di essere assunti e in terzo luogo massicci investimenti nell'edilizia scolastica. Non possiamo chiedere la riapertura delle scuole in sicurezza se non abbiamo gli ambienti, gli spazi adatti. Non bastano i gel, non bastano le mascherine. Abbiamo bisogno di ambienti spaziosi dove poter ottenere i ragazzi in sicurezza. E comunque già da adesso le scuole sono state un luogo sicuro, assolutamente. Però oggi non è uno sciopero solo per rivendicare questi tre punti fondamentali. E proprio per fare un appello a tutta la cittadinanza, a tutti gli insegnanti, ai genitori, ai ragazzi, agli studenti che hanno aderito alla manifestazione e dovrebbero arrivare anche qui, è proprio quella di chiedere una scuola diversa, ma diversa anche da quella che era prima. Una scuola pubblica che veramente abbia da parte dello Stato, ripeto, questa attenzione. E attenzione vuol dire soldi, vuol dire investimenti. Ma secondo voi le scuole possono riaprire dopo Pasqua? Secondo noi le scuole riapriranno laddove ci sono le condizioni, non solo per la pandemia, non solo quindi per gli spazi. Se hanno gli spazi devono riaprire le scuole. Però, ripeto, non vogliamo focalizzare la nostra protesta di oggi solo su dad sì, dad no, riapertura sì, riapertura no. Qui ne va, le scelte che verranno fatte adesso con i soldi, ripeto, in ballo, andranno a indirizzare tutta la scuola del futuro per i prossimi 10-15 anni. Restiamo in argomento perché, stando a quanto dichiarato dal Premier Draghi, da dopo Pasqua si potrebbe tornare sui banchi di scuola, almeno per quanto riguarda le primarie e quelle dell'infanzia. Secondo il capogruppo in regione del PD, Silvio Paolucci, è necessario che la Giunta Marsilio inizi subito a programmare il ritorno alle lezioni in presenza. La volontà del Governo è quella di riaprire le scuole dopo Pasqua, anche nelle zone rosse, lo ha annunciato il Premier Mario Draghi. Il piano è quello di riaprire le scuole primarie e dell'infanzia allo scadere dell'ultimo DPCM. Bisogna iniziare a programmare il ritorno sui banchi in Abruzzo, ha dichiarato il capogruppo in regione del PD, Silvio Paolucci, che ha presentato un'interpellanza all'emiciclo. Un'interpellanza per conoscere le intenzioni del Governo regionale. Ci sono interi luoghi, in particolar modo l'area urbana, Pescara, Chieti, dove le scuole sono chiuse ormai da due mesi circa. E quello che noi chiediamo è chiarezza. Nelle settimane passate, nei mesi scorsi, troppa confusione su questo punto delle scuole e anche su altri aspetti, lasciando nella caos più totale famiglie, comuni e comunità. Quello che noi chiediamo con questa interpellanza è chiarezza. Un programma è una grande alleanza tra regione insieme alle altre regioni, con i sindaci e anche con il mondo della scuola, perché raccogliendo anche l'appello del Governo Draghi si ricominci gradualmente l'attività didattica in presenza. Chiaramente, ascoltato e tenuto soprattutto conto dei pareri tecnici del Comitato Tecnico Scientifico. Però adesso è il tempo della chiarezza con un programma serio, ordinato, senza la confusione che abbiamo conosciuto nei mesi e nelle settimane scorse. Nelle scorse settimane le indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico avevano portato diversi sindaci abruzzesi alla decisione di sospendere le elezioni in presenza. Tuttora dipenderà dalla velocità della campagna vaccinale, nella speranza che i colossi farmaceutici rispettino il programma di consegna delle dosi. Entro la fine di marzo tutto il personale scolastico abruzzese dovrebbe essere vaccinato. Al momento solo l'ASL di Teramo ha concluso l'immunizzazione di tutti i lavoratori e le lavoratrici del mondo scuola. Anche in Abruzzo c'è stato lo sciopero dei trasporti per il rinnovo del contratto a Chieti, presidio nei pressi della sede della Panoramica per l'avvertenza in atto fra azienda e lavoratori. Vediamo. Qual è la situazione oggi del trasporto in Abruzzo? La situazione del trasporto in Abruzzo è molto preoccupante. Dele spiedo perché? Perché si sta andando avanti con la parcellizzazione del TPL, incentivando il nanismo delle imprese. Questo porterà sicuramente a nulla di buono perché i cittadini abruzzesi non vedranno corrisporsi un servizio di qualità e una rete dei trasporti. Quello che manca è la programmazione di regione Abruzzo che non fa una programmazione oculata e generale, ma lascia interpretare ai vari territori le varie situazioni. Oggi sciopero nazionale dei trasporti, ci sono delle manifestazioni anche in Abruzzo, ma non è casuale la vostra presenza oggi qui a Chieti nei pressi della Panoramica? No, non è un caso perché purtroppo questa è una revertenza che si trascina dall'anno scorso e c'è un vecchio proverbio antico che dice ogni disgrazia è provvidenza. E purtroppo questi signori, nella disgrazia, ricevono soldi dal governo, dalla regione per i ristori, per le perdite che hanno avuto, fin anche dei biglietti, dei chilometri non percorsi, chilometri che non percorsi che comunque vengono pagati, nel contempo non paghi di questo che hanno avuto dalla regione e dal governo. Hanno pensato bene di disdettare anche il contratto di secondo livello dei lavoratori, sottraendo risorse alle famiglie e mettendo in grave difficoltà tutte le famiglie di questa società. Noi ci rivolgiamo in primis all'azienda, in sostanza che ha tolto con una posizione unilaterale il 15 giugno del 2020, ha tolto con tutti gli annessi connessi oltre 600 euro di lavoratori. E approfittando anche della pandemia, però in buona sostanza loro diventano sempre più ricchi e noi sempre più poveri, perché con questa pandemia in sostanza si sono arricchiti, perché hanno preso, per quanto riguarda il contributo chilometrico, voto per pieno. Per quanto riguarda i minori introiti hanno preso i soldi dallo Stato e a noi ci tolgono i soldi. C'è preoccupazione, c'è incertezza, tra l'altro stiamo vivendo una disdetta di tutto il secondo livello che arriva dopo il mancato rinnovo di un accordo che premiava i lavoratori produttivi, dopo l'inasprimento dell'orario di lavoro. È una disdetta che è arrivata in piena pandemia, quindi noi siamo già fiaccati dai ritardi per quanto riguarda l'erogazione della cassa integrazione, quindi abbiamo trovato questa bella sorpresa. Abbiamo dei problemi materiali a concludere proprio la fine del mese, perché ci sono dei lavoratori che vivono soltanto di questo reddito e non possiamo permettere che l'azienda continui a lucrare su questo. Voi comunque continuerete a cercare di avere anche un'interlocuzione con l'azienda? Certo, noi aspettiamo che ci chiami, anche se da parte loro c'è una totale chiusura, hanno messo un muro davanti e noi comunque continueremo a far valere i nostri diritti con la forza dello sciopero. I settori dei wedding plan ed eventi sono in ginocchio dopo un anno in cui per la pandemia non ci sono stati matrimoni né cerimonie. Pochi ristori e tanti punti interrogativi per il futuro. Vediamo. Chiediamo la ripartanza in sicurezza, soprattutto dall'ultima novità che vede le crociere possibili, quindi noi ci chiediamo come mai su una nave da crociera possano convivere, ovviamente con i tamponi, abbiamo capito bene il protocollo, con i tamponi salivari tre giorni prima, come mai loro possano convivere 5.000 persone in una nave e in un ristorante non si possa svolgere una festa che potrebbe essere di 100, 200, 300 persone, tra l'altro magari parenti controllati e autocertificati. Nel passato probabilmente sì, sicuramente, perché l'estate scorsa non conoscevamo bene, non c'erano protocolli da seguire. Adesso la situazione è assolutamente diversa, credo che abbiamo preso tutti coscienza dell'importanza di questo virus. Quindi il fatto di voler fare una festa, ci sono sposi che dal 2020 stanno rimandando al 2022, talmente nella disperazione, anzi non dico credo, li sento e li vivo, sono disposti a mantenere il rispetto che possa essere le quattro persone al tavolo, distanziati. Hanno rinunciato al ballo, hanno rinunciato ai baci, l'importante è per loro poter festeggiare, parliamo dei matrimoni, ma parliamo anche di battesimi, prime comunioni. Ci sono realtà in cui i bambini nati l'anno scorso, 2020, ancora non riescono a ricevere il sacramento del battesimo, è una cosa tremenda. È importantissimo in termini economici, ci sono 67 miliardi di euro a livello italiano, nazionale, siamo 250 mila imprese, un milione di lavoratori dipendenti, regolarmente assunti e stagionali. Siamo fermi da un anno, il comporto specifico, quello dell'abbigliamento è quello che ha subito maggior danni, perché abbiamo le imprese, le aziende di produzione che sono fermi con le produzioni, che hanno consegnato la merce attraverso i rappresentanti che non percepiscono ovviamente provvigioni attualmente, perché noi atelier non siamo in grado di pagare la merce che abbiamo in negozio, in venduta, e ci stiamo proiettando al secondo anno di fermo, perché in realtà i matrimoni del 2021 sarebbero stati organizzati già da novembre e dicembre, quindi abbiamo già perso praticamente il 70% del 2021. Questo ristoro, i 600 euro l'anno scorso, due volte per parlare dell'Inps, e in quest'ultimo ristoro parliamo di un 3,5%, quindi se lei pensa un milione e mezzo di euro di fatturato, 35 mila euro di ristoro. Ora la cronaca, una persona è deceduta ieri sera in un incidente stradale accaduto all'uscita della galleria della SS 714 a Montesilvano, la vittima è un 49enne di Isernia, secondo la prima ricostruzione dell'uomo che era alla guida di una vettura, per causa in corso di accertamento ha perso autonomamente il controllo del mezzo, finendo fuori dalla carreggiata e andandosi a schiantare contro un muro di cemento. Immediati soccorsi con l'arrivo dei sanitari del 118, che hanno però potuto constatare solo il decesso. Sul posto i vigili del fuoco e gli agenti della Polizia stradale di Pescara, che hanno ricostruito l'accaduto. Autoveicoli smontati, privi di targa e cumuli di pneumatici in un'area non adibita, questo hanno trovato a Ortona gli uomini della Guardia di Finanza, che hanno sottoposto a sequestro un'area di 7.000 m2 e denunciato gestore e proprietario del terreno. Una discarica abusiva di 7.000 m2 è stata sequestrata a Ortona dagli uomini del reparto operativo aeronavale della Guardia di Finanza. L'area era utilizzata da una società operante nel settore della rivendita di autoveicoli, che non ha mai dichiarato redditi al fisco. Posto ai margini di un'area industriale e mimetizzato tra i terreni circostanti, il sito è stato individuato, grazie ad una serie di sorvoli, attraverso i quali i finanzieri hanno notato la presenza di numerose autovetture in pessime condizioni, molte delle quali parzialmente smontate, localizzate all'interno di una struttura organizzata e ben delineata da un'apposita recinzione. Un più approfondito controllo ha permesso di appurare che non sussisteva alcuna autorizzazione per l'esercizio di un'attività commerciale nell'area e che la stessa non era nemmeno classificata come centro di stoccaggio o di scarica. Alla luce di quanto riscontrato, i finanzieri della stazione navale e della sezione aerea hanno bloccato l'illecito smaltimento di oltre 190 tonnellate di rifiuti speciali costituiti da 130 veicoli fuori uso, di alcuni privi di targa e mancanti di parti essenziali per il loro funzionamento, cumuli di pneumatici fuori uso, parti di ricambio di autoveicoli e materiale di vario genere. I rifiuti erano in evidente stato di abbandono su un terreno privo di qualsiasi sistema di raccolta o contenimento dei liquidi pericolosi contenuti nei mezzi, con il conseguente rischio di contaminazione del sottosuolo e delle falde acquifere. Oltre al sequestro preventivo dell'area, il gestore e il proprietario del terreno sono stati denunciati alla Procura della Repubblica per la realizzazione di una discarica abusiva in violazione alla normativa ambientale vigente. I militari della Guardia di Finanza di Pescara hanno sequestrato 6 kg di hashish suddivisi in 60 panetti da 100 grammi e arrestato un trentenne. La sostanza stupefacente a prima vista di ottima qualità era confezionata con materiale schermante sotto vuoto per evitare che il forte odore del cannabinoide fosse rilevabile al fiuto dei cani antidroga in caso di controlli. Una volta immessa sul mercato, la droga avrebbe reso almeno 100.000 euro allo spaccio minuto. Il trentenne, residente a Montesilvano, è stato fermato perché notato con un voluminoso pacco attualmente in regime di detenzione domiciliare a disposizione del PM di turno presso la Procura della Repubblica di Pescara. Le indagini proseguono per risalire ai fornitori e scoprire a chi fosse destinata la droga. Cambiamo ancora pagina, giornata storica per la Teramo Ambiente, la società che gestisce lo smaltimento dei rifiuti del comune di Teramo. Il Consiglio Comunale di oggi voterà la trasformazione della Team da società mista in società pubblica. Una operazione fortemente voluta dal sindaco d'Alberto, ma la minoranza si oppone e minaccia denunce. Il servizio di Tania Bonici Castelli. Giornata storica per la Teramo Ambiente, la municipalizzata che gestisce lo smaltimento dei rifiuti urbani del comune di Teramo e che da società mista passerà ad essere completamente pubblica. Attraverso il voto del Consiglio Comunale, la Team diventerà una in-house, senza soci privati. Un'operazione fortemente voluta dal sindaco di Teramo, Gian Guido d'Alberto, che vede attraverso questa trasformazione la strada giusta per far pagare ai Teramani sempre meno tasse sui rifiuti. Perché è così importante che la Team diventi pubblica? È una scelta intanto che è finalizzata a ripristinare la legittimità. Dopo dieci anni per scelte politiche sbagliate che hanno lasciato questa società in una situazione di precarietà e legittimità, che hanno pagato i cittadini Teramani in termini di costi, soprattutto per quanto riguarda la gestione della tariffa. Dare continuità a un'azienda e dare soprattutto prospettiva. Noi vogliamo mettere in regola questa società e la strada che abbiamo scelto è che è pienamente in linea con quella che è la normativa regionale. Poi società in house o non in house, dipende da come la gestisce e da quali sono gli indirizzi che dà. Stiamo vedendo quello che sta succedendo nell'altra in house, quella dell'acqua, per come viene gestita. Da quando ci siamo noi la società è stata gestita in modo perfetto, adeguato, con la riduzione dei costi di gestione, con l'abbattimento dei costi della tariffa, con il ripristino di trasparenza e chiarezza. È un'operazione di legittimità, è un'operazione di prospettiva per una società che ha delle potenzialità straordinarie e che evidentemente è stata gestita da coloro che oggi contestano questa operazione, perché evidentemente per loro è una sconfitta, è stata gestita al servizio della politica e dei politici e non dei cittadini. Non mancano però le polemiche sulla trasformazione della TEM in società pubblica. La minoranza di centrodestra e Italia Viva si oppongono e contestano i costi dell'operazione troppo gravosi, secondo loro, per il Comune e minacciano denunce penali. Noi vogliamo che la TEM sia acquistata con i dovuti criteri. Non che il Sindaco ci parla di un acquisto di un milione e quattro, perché è mascherato. In realtà è un acquisto di due milioni e quattro, più le tasse di oltre 400 mila euro, che andremo a pagare nel, non voglio usare termini complicati, nel togliere alcuni fondi messi a riserva e rimessi in bilancio. Lei non l'avrebbe acquistata? Io l'avrei acquistata quando c'era la possibilità di acquistarla, e cioè quando, come gli ha suggerito anche il professor Cerulli, di acquistarla durante la curatela, quando la base d'asta partiva da un milione e due con i cespiti di Reggio Calabria, quindi presumibilmente il valore della TEM era sui 950 mila euro. Intanto, su sollecitazione del Comune di Teramo, è partita la campagna trasparenza sul sito web della TEM, da oggi cittadini teramani potranno sapere in anticipo quanto pagheranno di Tari ed ogni sera, grazie ad un'app, saranno avvisati sul rifiuto da conferire. È stato presentato in provincia di Pescara il primo spot dell'azienda Rustichella d'Abruzzo, il video Speranza per un nuovo rinascimento, coniuga la pasta, marchio di fabbrica dell'azienda, con le bellezze e le tipicità della regione Abruzzo, il servizio di Stefano Recanati. È possibile tramite la pasta far conoscere le peculiarità del nostro Abruzzo? La risposta è sì, ed è tutta racchiusa nel nuovo spot ideato da Rustichella d'Abruzzo, pastificio che affonda le sue radici addirittura nel lontano 1924. La mission della famiglia Peduzzi è basata da sempre sulla tradizione e sulla cultura della propria terra, facilmente riconoscibili guardando attentamente il video. Lo spot, diretto dal regista Pierluigi Di Lallo, ha come protagonista una ragazza, i cui tratti somatici riecheggiano ed invocano la mila di D'Annunzio e Michetti. La tela e il lino vogliono ricordare la tessitura e le donne che di questo mestiere ne hanno fatto un'arte, oltre alla presentosa, il gioiello tipico del nostro Abruzzo. Tocco finale, l'incedere sinuoso della ragazza ricorda gli spaghetti, messi in essiccazione sulle canne, mosse dal vento caldo. Lo spot, che farà il suo esordio televisivo sui canali Sky, è stato presentato in provincia Pescara nella sala Figlie di Iorio. Penso che nella semplicità di questo spot si percepisce proprio la semplicità, l'originalità e la tradizione. Come dicevo, per tradizione intendiamo tutte quelle cose che fanno parte dell'Abruzzo, dalla presentosa, al lino, ai tessuti, alla tessitura, al grano, alla luce, al calore e quindi poi per finire all'artigianalità con le trafile di bronzo. Noi ci auguriamo che sia un momento di riapertura e di visione di quello che ci attende nel futuro. Lo speriamo in un bel rinascimento, rinascimento per tutti. Ed ora allo sport, parliamo di Pescara. Poche le soddisfazioni in maglia bianca-azzurra per Ledian Memushai e José Macin che invece hanno ritrovato il sorriso ieri sera con le rispettive nazionali, il tutto mentre il resto del gruppo continua a lavorare in vista del match di merdi prossimo contro il Pisa. Vediamo. Doppio seduto di Erna per il Pescara, ovviamente senza i nazionali. Se Bellanova ha giocato uno scampolo di gara nel match pareggiato dagli azzurrini in Slovenia contro la Repubblica Ceca nel girone di qualificazione degli europei Under 21, José Macin e Ledian Memushai ritrovano sollievo con le rispettive selezioni dopo le amarezze pescaresi. Macin in campo, 90 minuti nel successo, nel finale della sua guinea equatoriale contro la Tanzania che vale la qualificazione alla fase finale della Coppa d'Africa. Più sofferta del previsto la vittoria di misura dell'Albania ad Andorra nella prima gara delle qualificazioni ai mondiali in Qatar. Titolare Memushai sostituito al 62esimo, per Macin ultimo impegno domenica, poi sarà di rientro. Bellanova giocherà domani sera e martedì con l'Under 21, Memushai domenica e mercoledì. Insomma, gli ultimi due saranno a disposizione di Grassadonia solo a ridosso del match casalingo con il Pisa, ovviamente da vincere, se questo Pescara ha voglia di non arrendersi ad una retrocessione che sembra oramai iscritta. Lo stesso Grassadonia in questi giorni sta lavorando senza Gutt, che si porta dietro i problemi alla caviglia riportati nel match di Vicenza. D'altro canto, li avrà sicuramente Scognemiglio, che ha scontato il turno di scolifica, e Bocchetti, che ha smaltito il problema muscolare e sta lavorando in gruppo, a pieno regime. In caso di forfè di Gutt, la difesa 3 sarà composta da Drudi, Bocchetti e Scognemiglio. In caso di inserimento di Sorensen, Drudi giocherà al centro e alla sua sinistra avrà uno tra Bocchetti e Scognemiglio. Sono idee quando siamo ancora ad una settimana dalla partita contro i Toscani. A centrocampo si è fermato Rigoni. Per l'attacco, Odgard sta lavorando a parte, al pari di Riccardi, e non è escluso che possa recuperare, almeno per andare in panchina. Resta poi da capire se in questo ampio intervallo di tempo possa frullare nella testa di Grassadonia l'ipotesi di lanciare tra i titolari alcuni dei calciatori finora meno impiegati e anche per questo più freschi e liberi mentalmente. All'Adriatico si presenterà una squadra, quella guidata dal pescarese Luca D'Angelo, che ha avuto una pausa più lunga visto il rinvio del match col Pordenone e che per il secondo anno consecutivo ha chiuso in anticipo il discorso salvezza e si concentra nella lotta play-off. Niente sconti da parte del Pisa, che ha 4 punti da recuperare, ma con una partita in meno rispetto all'ottavo posto occupato dal Chievo. Serie C, il Teramo è partito stamani per Vibo Valencia dove domenica alle 12.30 sfiderà la Vibonese alla lista dei soliti assenti. Si è aggiunto Chiere Mateng, ma d'altro canto di quella lista non fa più parte Richard Lasik che ha smaltito il problema al flessore ed è partito per la Calabria con il resto del gruppo. Ha un solo tempo nelle gambe e non sarà titolare, ma il giocatore slovacco ha voglia di contribuire al finale di stagione del Teramo. Ascoltiamolo. Il nuovo Lasik vuole tornare a giocare da terzino destro o magari sogna di tornare a fare il centrocampista per il Teramo? Ma no, io nel senso mi metto a disposizione del mister mi piace pure il ruolo di terzino quindi dove sarà bisogno lì giocherò. Se devo giocare da centrocampo gioco centrocampo se da terzino faccio terzino. È indifferente per me. Queste settimane in cui sei mancato che Teramo hai visto? Alcune partite abbiamo fatto meglio alcune peggio nel senso contro la Ternana si è visto miglioramento rispetto alla partita di andata. Invece la partita scorsa secondo me abbiamo fatto un passo indietro. dobbiamo dare continuità alle prestazioni quelle di Ternana fino al settantesimo secondo me e non ripetere quel mese che abbiamo visto a dicembre. Sicuramente questo ultimo mese dobbiamo fare bene più punti possibili per arrivare in una posizione nel playoff più alta possibile. Ho fatto tante partite nel senso anche in B anche altri campionati quindi penso la mia esperienza può aiutare può aiutare alla squadra nei momenti diciamo difficili durante la partita. la squadra vibonese fa tanti pareggi come vedete non sarà una partita facile secondo me però siamo in grado di vincerla sicuramente se facciamo quello che dobbiamo non ne ho dubbi di questo dobbiamo affrontarla nel modo giusto però. Cambiamo disciplina in ritiro al Francavilla al mare la nazionale paralimpica di ciclismo per preparare le paralimpiadi di Tokyo in Abruzzo spiega il CT Valentini c'è grande cultura verso i ciclisti ascoltiamolo qui in Abruzzo è una regione io sono Umbro ma è una regione che ci porta fortuna oltre ai raduni che abbiamo sempre fatto in questa stupenda costa dell'Abruzzo e poi gli appuntamenti importanti li facciamo su Arrovere dove lì c'è un posto bellissimo strade bellissime e poi speriamo che questo virus ci salva per poter arrivare a un obiettivo come dicevi tu importante come le paralimpiadi possiamo dire che Francavilla e l'Abruzzo sono diventate la casa della nazionale italiana ormai è qui per la sesta volta in ritiro vi sentite davvero a casa qui in Abruzzo percepato io lo dico sempre Civici Addesi che fa tutto Francavilla è stupenda ma soprattutto che tu vai in bicicletta non c'è una persona che suona il clacson come in altre regioni ma l'Abruzzo ha una cultura ciclistica che fa paura insomma la mentalità la gente che va in bicicletta sono tantissime quali sono Valentini le avversarie dell'Italia? beh ormai le cinque nazioni forti che siamo noi l'America il Canada la Spagna la Francia l'Inghilterra e la Germania queste sono diciamo le nazioni più forti e poi c'è la Cina su strada non è tanto forte ma su pista è molto forte ma io quando ho la possibilità che ci sono la telecamera io faccio un appello a tutti coloro che vanno in bicicletta di stare in fine indiana di dare il cambio sulla destra di mettere i lampeggianti davanti e dietro perché non perché l'assicurazione non paga poi perché bisogna avere rispetto anche degli automobilisti perché i automobilisti sono cattivi diventano cattivi quando vedono c'è gente che va a lavorare allora di non discutere di stare sempre attenti perché noi abbiamo vinto almeno io in 99 medaglie d'oro nella vita come campionato del mondo delle olimpiadi però la morte di un ragazzo anche di un signore di un padre di famiglia non compensa tutti questi incidenti ecco perciò la prevenzione di farla state attenti perché tutti voi siete degli automobilisti la democrazia è fondata sul rispetto degli altri cerchiamo di essere bravi a fare questo grazie e allora gli appuntamenti di calcio a 5 a pallavolo partiamo dal calcio a 5 fermi i campionati di A e A2 ma domani la Color Max Pescara giocherà in gara secca il turno eliminatorio di Coppa Italia a Padova alle 19 in B la Dem nell'anticipo vince a Barletta 10-3 ed è più vicina ai playoff si gioca al femminile gran match domenica per il Montesivano sul campo dello Statte in Paglio la seconda piazza in A2 la capolista Franca Villa va a Perugia il Florida Pescara riceve il Forigno l'Orione Avezzano gioca a Firenze per quanto riguarda la palla a volo pausa per la Sieco che disputerà la prima dei playoff a Siena l'11 aprile per i quarti di finale l'Abbapinetto in A3 riceverà domenica la capolista Grotta Zorina nell'ultima gara della prima fase in una gara ininfluente ai fini della classifica quarto posto già conquistato dagli abruzzesi in attesa dei playoff contro Aversa l'11 aprile in Serie B l'Alba affronterà in casa il Potentino il Paglietta andrà a Lucera in B1 femminile scontro al vertice per l'Altino sul campo del Sant'Elia mentre la Teatina ospiterà domani il Casal De Pazzi in B2 il Gada Pescara 3 cercherà il Gran Colpo sul campo della capolista Porto Sant'Erpidio la vice Arabona se la vedrà col Pagliare il Teramo col Fermo è tutto per questa prima edizione del TG6 tutti i servizi che avete visto a breve saranno disponibili on demand sulla nostra piattaforma Youtube oppure sul sito www.tv6.it prossimi appuntamenti con la nostra informazione alle ore 19 e alle ore 23 grazie per averci scelto a presto